bar simonetti di simonetti pietro taranto via umbria 186 abc nuovo look con gazebo all'esterno dove degustare tra le tante prelibatezze il tradizionale caffè illy e gli aperitivi guarniti colazione ricca di novità muffin donuts ciambelle pasticciotti leccesi frullati centrifugati e spremute di melograno e di zenzero organizzazioni di ricorrenze varie vendita giornali i nostri servizi raccomandate postali in collaborazione con poste italiane biglietteria sud est trenitalia ctp amat viva ticket con concerti e spettacoli e i tradizionali biglietti del taranto calcio attivazione paypal ricariche post pay no limits bonifici bancari pagamento di bollettini vari giochi lotto super e nalotto calcio scommesse match point rivenditore autorizzato di cupono babaluba bar simonetti di simonetti pietro sempre con te aperto 365 giorni all'anno